Si affrontano per questa giornata di campionato Lazio ed FC8, l'incontro è valido per la quinta giornata di regular season della Serie A di Calcio 8. Va sulla fascia, attenzione, alza la testa, sono in due e mezzo, la palla per il sinistro, a lato, dopo una carambola, attenzione però perde la palla la Lazio, attenzione, il cross dal fondo, il colpo di testa di Fioramonti rimpallato, la palla ancora nel sinistro e c'è il gol, il gol di Fioramonti che sblocca l'incontro su un doppio tentativo, prima di testa e poi di sinistro, quando siamo a ridosso del decimo minuto, l'FC8 si porta in vantaggio con il gol del numero 4 Fioramonti. Allora attenzione all'FC8 che ancora gioca a palla, ancora un errore però attenzione perché c'è la palla per De Angeli, sul destro, il tocco sotto sull'uscita del portiere, non c'è rigore. Salta per la Lazio, attenzione a Striani, il sinistro di Striani, rete, la deviazione sul sinistro di Striani e la Lazio trova dopo tre minuti il gol dell'1-1, al dodicesimo un sinistro dalla lunga distanza di Striani, trova una deviazione di un avversario e inganna Franzini che nulla può. Attenzione la Lazio che la gioca, il grandestro di Sanetti, poi palla che viene scaraventata al centro campo, recuperata la Lazio, Striani il sinistro, non va. La Lazio che quindi può attaccare, Striani il sinistro, brividi per il sinistro dalla lunghissima distanza di Striani. Ippoliti sul sinistro ha preso Giuliani, attenzione, il destro di Giuliani, palo e poi il pallone che si perde sul fondo. E perde palla la Lazio, attenzione Fioramonti, Ippoliti, attenzione, il destro di Ippoliti e la paratona di Mastropietro. Che poi cercava di servire lo stesso Striani, attenzione va a De Angeli, che è la ricevuta dal numero 7, che prova la conclusione, la palla che rimane lì in palo, la palla per Sanetti, Rete! Rete di Sanetti, che porta i suoi in vantaggio, completa la rimonta alla Lazio. La palla controllata da De Angeli, il tocco leggermente corto per Striani, che riesce a difendere il pallone, alza la destra e mezza due, se ne va! Benissimo Striani, alza la destra, il sinistro deviato, Rete! Rete! E il giocatore in maglia numero 9, Daniele Lana, il che sigla è il 3-1 della Lazio. Vede Striani, apertura a destra per De Angeli, lato corto dell'aria, De Angeli! 4-1 De Angeli! E la Lazio ora dilaga! E la Lazio dilaga! Che la poggia su Striani, che apre di destro per Bozzetto, il cross subito! Gol! 5-1 della Lazio! L'FC8 che proverà in questa parte finale della seconda frizione, perlomeno a rendere meno pesante il passivo, che ribadiamo, forse è pure un po' troppo severa. Attenzione, al destro di Fioramonti, è il gol! Il gol di Fioramonti, che quindi sigla una doppietta e porta i suoi a quota 2 nel tabellino della partita. Gap tra le due squadre che rimane ancora pesante. Sì, sicuramente, noi siamo una buona squadra e dobbiamo restare sempre con i piedi per terra, giocare a pallone, come ci dice il mister. Quella è la cosa importante, il gruppo insieme si arriva lontano. Grazie a tutti!